frutticoltori della provincia di verona buongiorno e ben ritrovati a questo secondo bollettino del melo e del pero del 19 marzo 2021 un saluto dalla col diretti di verona dall'aipo op dal consorzio ortofrutta veneta dall'associazione tecnici ortofrutticoli vediamo ora la fase fenologica per quanto riguarda il gruppo della golden delicious siamo a orecchiette di topo il gruppo del gala siamo a punte verdi gremi smith orecchiette di topo varietà pink letty orecchiette di topo mazzetti affioranti il gruppo dell'imperatore siamo al ringonfiamento delle gemme abbassamento delle temperature nei prossimi giorni sono previsti abbassamenti delle temperature valutare la fase fenologica in corso non si dovrebbero avere dei danni concreti per quanto riguarda la difesa fitosanitaria sono poche le variazioni rispetto alla scorsa settimana vediamo però punto per punto ticchiolatura le temperature sono ancora contenute le minime notturne si avvicinano allo zero e lo scendono di qualche grado con assenza di precipitazioni cioè limita le infezioni di questa crittogama situazione che si manterrà probabilmente anche nei prossimi giorni eulia si è notato il primo volo non intervenire con agrofarmaci in questa fase litto collette abbiamo le prime limitate catture cocciniglia di san jose installare le trappole a ferormone se non già eseguito attuare un intervento con olio minerale paraffinico nelle ore più calde della giornata non intervenire su piante di melo inferiori al terzo anno di età e sulle varietà red delicious attenzione non miscelare con lo zolfo ragnetto rosso ed eurofide del melo l'intervento contro la cocciniglia di santi osè è efficace anche nei confronti di questi due acari parassitari affide lanigero verificare se già visibile a livello del colletto la tipica lanugine bianca il trattamento con oli minerali paraffinici contro le cocciniglie ne limita la presenza antonomo del melo se accertato come riportato nel bollettino numero 1 intervenire con prodotti a base di piretro con dosi da etichetta miscelare con oli minerali paraffinico attivo nei confronti delle cocciniglie tentredine del melo posizionare le trappole cromotropiche bianche per intervenire poi verso bottoni bianchi cimice asiatica l'abbassamento delle temperature di questa settimana ha molto ridotto l'uscita degli adulti dai siti di svernamento confusione e perte dell'orientamento sessuale posizionare gli erogatori di cidia molesta anche in abbinamento cidia molesta più cidia pomonella per quanto riguarda il bero siamo nella fase fenologica di apertura gemme per tutte le varietà ticchiolatura la vegetazione è recettiva se si hanno lunghe ore di bagnatura intervenire preventivamente con prodotti rameici efficaci anche nei confronti dei cancri rameali cocciniglia di san jose prima della comparsa dei mazzetti fiorali intervenire con oli minerali o piriproxifeno un saluto e un arrivederci al prossimo bollettino del melo e del pero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.